Oggi abbiamo fatto un comitato provinciale per l'ordine a sicurezza pubblica, molto importante se non altro perché è il primo del nuovo questore, Alessandro Giuliano, quindi siamo entrati subito in una serie di tematiche generali ma anche di proposte concrete che hanno in particolare questi obiettivi. Il primo, bisogna mettere in campo efficacia, determinazione, concretezza e presenza istituzionalmente muscolare con riferimento alle stese notturne, quindi su questo non posso anticipare ma già nelle prossime ore ci saranno interventi molto importanti che attraverseranno la città in modo da scongiurare questi episodi inaccettabili che sono accaduti anche stanotte dell'incendio di alcuni cassonetti, quindi alcune mie proposte specifiche hanno trovato il pieno adesione e consenso in un piano operativo stilato oggi con tutte le forze di polizia coordinate dal prefetto e anche abbiamo ottenuto un impegno importante su giugno per quanto riguarda il vasto Piazza Garibaldi e Porta Nolana con riferimento all'immediata fine dei lavori di Piazza Garibaldi, controllo del territorio ma anche con riferimento all'impegno che sono prese le forze di polizia per quanto riguarda il cosiddetto mercato dei rifiuti o degli stracci che si mette in atto nel giorno e i festivi e in particolare la domenica. Poi anche altre cose importanti, successivamente abbiamo fatto il comitato metropolitano con la presenza dei presidenti di municipalità e dei rappresentanti delle categorie economiche, commerciali e delle attività produttive dove anche abbiamo messo a punto ulteriori obiettivi, azioni da intraprendere, proposte costruttive che sono state anche avanzate e di cui terremo conto, quindi credo che andiamo verso settimane importanti per la sicurezza nella nostra città. Non può esistere che ci sono delle persone che pensano di poter in maniera tracotante essere i controllori del territorio in modo da far diventare un fatto grave e un'ordinarietà. Su questo devo dire ho trovato come sempre la sensibilità di tutti e credo che anche la venuta del questore Giuliano va nella direzione di un ancora più efficace controllo del territorio nelle ore notturne, quello che era mancato. Come lo sanno le persone per bene, lo sanno anche i criminali, a che ora smontano le pattuglie, a che ora rimontano. C'è bisogno di un controllo, molto forte, che va in particolare nel turno ore 22, 4 del mattino. È là che bisogna vedere la presenza dello Stato. Fatto quello, credo che avremo dei risultati assolutamente incomiabili e soprattutto episodi di danneggiamento, vandalismo e violenza che ci sono stati negli ultimi tempi non si vedranno più. E poi aggiungo, abbiamo come Polizia Municipale messo a disposizione non solo donne e uomini, carri e attrezzi e grazie alla nostra tenacia, che ha trovato anche l'ascolto non solo del Comitato, ma anche del Ministero dell'Interno. Abbiamo sbloccato i luoghi in cui mettere i motorini, quindi l'obiettivo delle forze di Polizia è stato quello di da qui a settembre procedere in quelle fasce orarie di cui abbiamo parlato al sequestro di migliaia di motorini.